Sono cresciuta nello stesso posto in cui è cresciuta lei, nello stesso contesto, ho frequentato la sua stessa scuola di musica, i nostri padri sono stati colleghi di lavoro e abbiamo calpestato gli stessi San Pietrini del Vaticano e della zona San Pietro, centro storico. Era una zona meravigliosa, è tuttora, pensavamo che fosse un luogo principesco, che fosse un luogo speciale, siamo state delle privilegiate, poi un giorno qualcosa si è interrotto, è successo il 22 giugno dell'83. Il mistero impenetrabile della sparizione di Emanuela Orlandi tocca da sempre le corde di Anna Cherubini, dopo anni di riflessione sceglie di affidare ad un romanzo quelle emozioni. Sono entrata alla stessa sua scuola di musica prendendo il suo posto e mi sono chiesta per tutti quegli anni, mi sono chiesta, potevo essere io la ragazza che non è tornata a casa quella sera. Diventeremo amiche, ripercorre la sua storia, quella della sua vita trascorsa frequentando gli stessi luoghi e le stesse persone della famiglia Orlandi. Io volevo parlare di lei, di Emanuela, quindicenne, uscita di casa un pomeriggio di giugno per andare a lezione di flauto e canto corale, e mai tornata a casa. L'incontro con Pietro Orlandi, che anni prima l'aveva contattata alla ricerca di un fil ruso per la verità su sua sorella, diventa la scintilla che muove i fili delle pagine di Anna Cherubini. Un giorno ho deciso di rispondere a Pietro, che mi aveva scritto anni prima, per chiedermi ma cosa diceva tuo padre di Emanuela? Mio padre diceva tante cose, ma non cose che purtroppo potessero rivelare in segreto. Ho deciso di rispondere a Pietro e decidendo di rispondere a Pietro ho deciso anche di scrivere il libro. È un libro diverso dal solito, mi ha colpito tantissimo, perché in questo libro, a differenza di tanti altri, non si parla di inchiesta, non si fanno ipotesi. Secondo me dà tantissimo questo libro alla storia, fa parlare anche Emanuela, che solitamente non appare. C'è sempre il ricordo, Emanuela studiava musica, Emanuela studiava pianoforte, flauto, invece nel libro Emanuela dice, ah io studio musica, faccio, quindi ha restituito voce ad Emanuela. Sono passati 40 anni e la famiglia Orlandi non perde la speranza che la verità venga prima o poi a galla. Beh, quest'anno ci stanno tre inchieste aperte, qualcosa di uscito per forza, partita l'altra settimana la commissione parlamentare di inchiesta, io sono convinto che quest'anno si faranno dei passi avanti, sono sicuro.